La storia 3-0 che consente alla Savino del Bene di alzare al cielo la Chef Cup secondo il trofeo europeo consecutivo, a tua soddisfazione. Beh, è grandissima perché secondo me quest'anno la Coppa Chef è una Coppa molto difficile da raggiungere, molto difficile. Noi avevamo una squadra attrezzatissima per farlo, però non è nulla del scontato questo gioco, per cui abbiamo avuto un percorso molto difficile. E inoltre un percorso difficile che va collegato anche al percorso che abbiamo ottenuto nel campionato. Penso che ogni e solo tre squadre fino ad oggi erano arrivate alla Coppa europea e quasi alla qualificazione di Champions perché noi ancora in Champions non ci siamo. Però molto bello, grande soddisfazione, sono contento per le ragazze, sono contento per la società, bellissimo pubblico questa sera. Speriamo che da domenica si ripeta perché la domenica iniziano tutte finali per noi, però brave, brave le ragazze, una bella vittoria. Non solo oggi, ma tutto il percorso ripeto è stato eccezionale. Massimo nel quarto sette con il Tai 2 hai capito che la Coppa veniva a scandirci. Ma diciamo che quello è stato il momento, forse il momento più difficile, come l'inizio della partita a Zverin, come il terzo, anche il quinto sette a Zverin. Zverin è partita in Turchia, è più difficile. Dopo non l'ha rascoltato oggi, però sicuramente quelle sono state le due vittorie fondamentali. Com'è! Grazie!